Il foyer del Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà fino a lunedì 29 aprile la mostra da solo non basso che il centro di servizio per il volontariato Abruzzo ETS ha esposto già all'Aquila, a Pescara e a Teramo. Il sottotitolo della mostra, In viaggio con i ragazzi di Cairosso, Portofranco e Piazza dei Messieri, punte riflettori sull'opera eccezionale che da anni svolgono le tre associazioni nate dal desiderio di ascoltare il grido, le ferite dei ragazzi, il loro bisogno di essere accolti, guardati, chiamati per nome, abbracciati e soprattutto stimati. Il principale messaggio è già contenuto un po' nel titolo della mostra, da solo non basto, abbiamo voluto in qualche maniera dimostrare come del resto ognuno di noi sa benissimo se si guarda un attimo con lealtà, che da soli non riusciamo a superare le nostre difficoltà, non riusciamo a dare una risposta vera ai nostri bisogni, abbiamo bisogno sempre degli altri. E questa è una storia emblematica che viene raccontata perché in qualche maniera racconta la storia di giovani, oggi se ne parla tanto di questi giovani che sono in difficoltà, che incontrando invece uno sguardo su di loro carico di positività riescono a cambiare, riescono quindi in qualche maniera a sbocciare, a fiorire. Alla presentazione ha preso parte oggi tra gli altri Gianni Mereghetti, responsabile dell'associazione Portofranco Italia. Noi partiamo dallo studio, i ragazzi che vengono da noi sono in difficoltà nello studio, hanno l'insufficienza nello studio, condividendo il problema dello studio si scopre che hanno bisogni molto più grandi, un bisogno di senso della vita, un bisogno di felicità, un bisogno di uno sguardo. Ecco noi cerchiamo di condividere il bisogno nei suoi diversi aspetti, arrivando fino a questo bisogno profondo delle ragazze di oggi che è quello della felicità. Da solo non basto, si avvale di numerosi patrocini tra cui la regione Abruzzo, l'ufficio scolastico regionale, tutte le province abruzzesi, i comuni dei quattro capoluoghi, le università di Chieti Pescara, dell'Aquila e di Teramo e infine il forum del terzo settore.